Eccolo, il nuovo portiere della Fidelis, il primo tassello inserito nella batteria di coloro i quali difenderanno i pali dell'Andria nel prossimo campionato di Serie D, si chiama Alessandro D'Andrea e nella passata stagione ha militato con i gradi di titolare della primavera del Napoli, allenata da Roberto Barronio. Dal club partenopeo si è trasferito nei giorni scorsi a titolo definitivo alla Cavese Società di Serie C, un investimento importante e di prospettiva da parte del club metteriano che lo ha girato poi con la formula del prestito proprio ai biancazzoni di Giancarlo Favarin. Le indiscrezioni circolate nei giorni scorsi dunque hanno trovato ora anche conferme. D'Andrea è ufficialmente un nuovo giocatore della Fidelis e raggiungerà già in giornata il ritiro di Alfedena in provincia di L'Aquila. Molto presto intanto diventerà un suo compagno di squadra e di reparto anche Stefano Carriero, portiere del 2001, reduce dall'esperienza sempre nel campionato primavera, ma con la maglia di un'altra campana, il Benevento. Terzo giorno di lavoro in Abruzzo nel frattempo per i biancazzurri. Oggi è previsto anche l'arrivo ad Alfedena sia di Mattias Cristaldi che firmerà il rinnovo del contratto, sia quello del volto nuovo Cosmo Palumbo, centrocampista di esperienza classe 89 proveniente dal Francavilla 1927, nella passata stagione per lui 12 gol in 30 presenze. L'argentino Pablo Ezequiel Banegas, compagno di squadra proprio di Palumbo nello scorso campionato di Serie D, si aggregherà invece al gruppo a partire da martedì prossimo. Il direttore sportivo Vincenzo De Santis nel frattempo continua a lavorare sempre sul fronte mercato, sembrerebbe a buon punto il complesso iter burocratico che riguarda il difensore serbo Koznic, sempre in attesa dell'ok per diventare un nuovo giocatore dell'Andria. Mercoledì prossimo alle 17.30 arrivi Sondoli infine e in programma il primo test estivo della Fidelis che sfiderà in amichevole la Juve Stabia, formazione neopromossa nel campionato di Serie B.